Sindaco, a Savelli come vanno le cose? Stiamo cercando di portare alla luce tante cose, ma più che portare alla luce le cose che sono state fatte, stiamo cercando di sanare il bilancio, stiamo cercando di creare attrattiva turistica per portare gente il più possibile, perché effettivamente la vocazione del nostro paese è il turismo. Turismo perché è l'unico paese del crotonese dell'Asila Grande. Fortunatamente quest'anno non è mancata l'acqua, sfortunatamente ci hanno bloccato la ditta che prende la spazzatura, da giorno 16 ci ha bloccato la spazzatura e oggi abbiamo cercato di risolvere il problema legalmente e con tutto quello che abbiamo a disposizione, con la speranza che usciamo da questo impasse. Chiedo scusa a tutti quelli che hanno scelto Savelli per villeggiare, ma non è una colpa dell'amministrazione o mia personale, è colpa del bilancio che non abbiamo trovato i soldi per poterli pagare. Quindi, giustamente, siccome i tributi non sono stati pagati negli anni precedenti, abbiamo questo voto delle casse. Io mi auguro che la gente prenda coscienza, se vuole i servizi, che deve pagare gli stessi servizi, sennò altrimenti non si va da nessuna parte. Oggi è importante qui al Parco Nazionale della SILA, sarà eletto il Consiglio, i quattro consiglieri tra i sindaci presenti. Si può fare rete per questo parco, per questa bellezza calabrese? Io mi auguro di sì. L'importante è che non si guardi al campanilismo, ma si guardi effettivamente alle persone che possono gestire il territorio e la gestione del territorio non deve essere a singhiozzi. Si dovrebbe fare un programma serio che chiunque venga dopo di noi deve continuare quel programma. Anzi, si dovrebbe fare prima un tavolo anche con minoranze, con tutti eccetera, perché il programma deve essere organico, strutturato e nel tempo. Perché se noi facciamo il gioco della politica che ogni volta si promette, si cambia la progettazione e non si va da nessuna parte. Il Presidente del Parco ha detto faremo sistema e collaboreremo tutti insieme. Ma infatti è una persona squisita, anche perché non viene dalla politica e prestata alla politica. è una persona che ha tantissima esperienza, il Dottore Curcio, io lo apprezzo tantissimo per la sua onestà intellettuale, per la sua preparazione nel settore. E mi auguro che effettivamente noi che ci definiscono politici seguiamo le orme del Dottore Curcio.